Il piccolo principato di Monaco si prepara a una grande occasione. Il primo e il due luglio, il principe Alberto e Charlene Whitstock si uniranno in matrimonio. Prima il rito civile, seguito da quello religioso, il giorno successivo. Euronews ha parlato con i futuri sposi a pochi giorni dalle nozze. Alberto II, Charlene Whitstock, grazie per essere con noi su Euronews, prima del lieto evento che vi attende. Manca poco ormai, i preparativi per il matrimonio sono alla fine. Nonostante lo stress che credo stiate vivendo in questi giorni, mi sembrate entrambi incredibilmente calmi e sereni. Dipende dai nostri caratteri, dalle nostre personalità. Credo che non siamo angosciati o agitati a causa dei preparativi. È una grande occasione, occorre molto lavoro, è stato fatto molto lavoro. Ci sono stati momenti un po' difficili, ma li abbiamo superati. Potrete vedere non solo il palazzo, ma Monaco, trasformarsi nei prossimi giorni. Per ora tutto è nei programmi, tutto sta andando come previsto. Non ci sono stati contrattempi per quanto riguarda i preparativi. Restano solo piccoli dettagli organizzativi, che non riguardano assolutamente la cerimonia, ma solo dettagli di tipo logistico. È un grande evento, ma avete potuto aggiungere un tocco personale? Abbiamo deciso assieme le linee generali. È stata una joint venture. E poi ovviamente Charlene, che è una donna di gran gusto, è stata più impegnata di me negli addobbi, alcuni dettagli da quel punto di vista. Quali dettagli ha aggiunto? Oh, vedrete, non voglio svelarvi troppe cose adesso. Sarà una sorpresa. Il matrimonio dovrebbe essere talmente bello da non poter vedere ciò che lo rende tale. È una favola, un sogno per alcune ragazze, quello di diventare principessa. A volte forse lei dopo le nozze si chiederà, è tutto vero? Non riesco a crederci. Per ora non ho avuto modo di pensarci. Vedo la corte completamente diversa da prima. È piena di persone impegnate nei preparativi. Sarà un grande evento, continuo a fare tranquillamente quello che devo fare. Principe, ce n'è voluto di tempo per trovare la donna dei sogni. Deve ritenere quasi incredibile aver trovato la persona con cui passare il resto della vita. No, non devo darmi un pizzicotto per svegliarmi dal sogno, ma comunque sono molto entusiasmato e lieto che Charlene ed io passeremo perlomeno un lungo periodo assieme e mi auguro che sia il più lungo possibile. Ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha il suo percorso di vita, il suo modo di fare le cose. La mia strada è stata un po' lunga, ma non ci sono limiti di età per sposarsi. È una decisione personale ed è stata una decisione presa di comune accordo. Lei sta entrando a far parte di una famiglia molto famosa. Come si sente? Ho molto rispetto per il paese, per l'eredità di Alberto. Ho sempre detto che non avrei assunto i panni di un'altra. Ho sempre seguito la mia strada, ho gareggiato come nuotatrice. Credo che il tempo ci dirà. Lo sport è un elemento importante nella vostra relazione. Quali sono gli altri ingredienti magici? Cosa la fa emozionare quando pensa alla sua futura consorte? È così generosa nel dedicare tempo agli altri, aiuta agli altri, specialmente i bambini, e in particolare i bambini disabili. È stata nominata ambasciatrice della Special Olympics, una grande organizzazione con grandi obiettivi, e sono sicuro che adempirà questa missione con grande passione e cuore. Charlene Whitstock, cosa le emoziona pensando a suo marito? Mi dà però le orecchie, non voglio ascoltare. È una persona estremamente premurosa, affettuosa, divertente. Penso che se non avesse funzionato tra noi saremmo rimasti grandi amici, e in effetti è uno dei miei migliori amici. È qualcuno su cui posso contare e che mi dà la sua opinione nel modo più onesto. Cosa posso dire di più? È proprio qui. Vi auguro davvero il meglio. Grazie per essere stati con noi. Give us a bit of your time. It's a pleasure. Thank you very much.